Poi arriva il ruolo di Israele, Israele naturalmente potrebbe preferire i persiani ai turchi, o i turchi agli arabi, questo cambia poco, l'importante è che lo Stato di Israele deve rimanere egimani, scusami, lo Stato di Israele con questo regime ha buoni rapporti, con il regime siriano? Esattamente, perché dal 73, fu la guerra del 73, molti di voi giovanissimi non ve lo ricordate, però ci fu un accordo con le alture del Golan, ogni tanto riccheggiano questo in giornale, sono occupati di Israele e da allora non è mai avuto una scaramuccia fra due... Rispetto a quello che noi qua abbiamo compreso, o forse non l'abbiamo capito, in tutti questi anni di racconto del Medio Oriente, Fesale ci sta dicendo che alla fine Israele e Siria in qualche modo hanno un accordo per tenere la situazione come sta, esattamente così, mentre invece noi abbiamo sempre compreso che questi alture del Golan erano un po' un caso sobelli che avrebbe potuto portare alla guerra tutta l'area, che abbiamo sempre pensato, almeno qui in Occidente si pensava questo, cioè che alla fine questo poteva essere, insieme con la stessa di Gaza, ma quello è un altro problema, potesse portare ad un conflitto tra Israele e la Siria e quindi infiammare tutto il Medio Oriente. Questa è una semplificazione che faccio io per raccontare anni e anni di cose che noi abbiamo cercato di comprendere e che forse non abbiamo capito niente. Sono qui voci che portano una parte dell'opinione italiana, e lo dico senza né vergogna né paura, la sinistra in Italia vede nel regime seriano il paluardo che difende l'interesse della popolazione seriana contro gli americani, eccetera, sapete questa storia che naturalmente... Faisal, tu per sinistra che intendi? Intendi la sinistra di Vendola, la sinistra di Bersani, la sinistra ideologica, che sinistra intendi? Senza scendere molto, nell'articolare la sinistra, diciamo la sinistra, io sono venuto già a Naboli, sono stato più aggredito dalla sinistra che da altri, pensando... Se dici queste cose della sinistra? Il regime seriano è l'unico regime che contro gli americani, ma scusatemi, dopo quattro minuti dalla morte del padre, questo venne chiamato a diventare il capo supremo dell'esercito, con l'approvazione americana e al funerale c'è andata la signora Albright, a suo tempo era ministro dell'Estre, a fargli gli auguri per la presidenza e le condiglianze per la morte del padre, che non so qual è che le piace di più, fra le due cose, ma intanto c'è andata lì a Damasco per farlo. E questo è stato un riconoscimento degli americani per questo regime. Perché, ripeto, vi cito un piccolo dato, negli accordi del 74, perché la guerra fu a ottobre 73, nel 74, l'accordo fra Israele e la Siria, dove in alcune zone del sud e un po' ovest della Siria, non dovrebbe mai passare un, non un carro armato o un aereo siriano, ma un soldato vestito con la sua divisa, un soldato semplice. Ebbene, i carri armati che sono partiti per andare a gridire quella città che è stata prima l'inizio della rivolta vera, quella degli studenti della scuola media, sono passati in quella zona e nessuno ha detto niente. Non è mai successo niente, in tutti i confini con Israele, qualche scaramuccia c'è stato, Libano, l'Egitto, persino, naturalmente con la palestinese, ma la questione della Siria mai è stata una scaramuccia, anche banale per errore, magari umano, da qualcuno, da uno o dall'altro. Ma non solo, appena cominciata la rivolta, la dichiarazione ufficiale è questa, ufficiale, ed è riportata con immagini, parole, eccetera, del regime che, attenzione voi israeliani, voi sapete che se cambia regime qua la cosa interessa anche voi. Ecco, allora io che non sono nella stanza di bottoni, cosa devo capire? Sono degli accordi, così. Quindi io approfitto, scusami, dicendo, attenzione, voi della sinistra che dovete appoggiare per, almeno per definizione, l'interesse della popolazione, divendeteci intanto del regime. Poi quando siete tutti che siamo alleati dell'America, a quel punto criticateci, ma la Siria non è governata da persone elette dal popolo che sono rappresentanza di una libertà-democrazia e contro qualcuno, sono contro solo i siriani, non sono contro nessuno, è una banda che governa questo paese. Questo è chiaro, insomma, lo vediamo. Allora, devo rifare un'altra volta una sottolineatura. Fesara ha tirato in ballo, e ci fa piacere che lo faccia, perché a volte bisogna anche uscire da certi schemi, ha tirato in ballo quello che è il ruolo della sinistra italiana. Allora, se qualcuno si dovesse sentire nel dovere di venirci a sottolineare qualche cosa, noi siamo qua a disposizione. La tesi di Fesal è abbastanza, come dire, dura, se vogliamo, per cui se qualcuno vuole venirci a dire che le cose non stanno così, noi stiamo a disposizione senza nessun problema. La cosa che io sottolineo sempre ai ragazzi della redazione, la struttura lo sa, è che questa è una tribuna aperta, libera. Qui si può parlare tutti di tutto, a patto di non offendere nessuno. E noi mi pare che lo stiamo facendo con tranquillità, con serenità, senza offendere nessuno. Se qualcuno si sente tirato in ballo, ci può, attraverso i tanti canali che il web consente, venirci a dire che le cose non stanno così. Fesalo, sai che devo fare questo, perché professionalmente lo devo fare. Però questo non ci impedisce di andare avanti, di proseguire nel dibattito. Una cosa, innanzitutto, voglio dire ai nostri spettatori che questa è un'occasione anche per comprendere, attraverso chi ha dei rapporti diretti con le realtà, comprendere effettivamente, come dire, quello che accade in una parte del mondo che noi invece conosciamo soltanto attraverso dei canali che molto spesso sono indirizzati ideologicamente. Allora noi qua raccontiamo le cose secondo quelle che sono le testimonianze delle persone che ce le vengono a raccontare. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, se no vado avanti io. Prego. Buonasera, Massimo Junior Dauria del Domenicale di Casore. Volevo prendere spunto da una cosa che ha detto lei. Sappiamo che Akhmaniyeh Jad, il presidente dell'Iran, più volte ha sottolineato, appunto come ha detto lei, di essere quasi l'erede dell'impero persiano, quasi sentisse lo Shah di Persia. Quanto ritiene possa influenzare questo, come già detto, nella scelta dell'Iran appunto di entrare in campo, ma soprattutto qual è il vero intento dell'Iran, nel senso di collegarsi più strettamente con la Siria o magari addirittura installare una sorta di protettorato e quindi cercare ancora di collegare più rapporti, quasi mettendolo in subordinazione, nel regime siriano. Fa' esatto, prego. Ci sono due aspetti, io ho parlato di uno solo, quello cioè imperiale, quindi storico. C'è un altro motivo accanto a questo, quello religioso. E quindi così l'immagine della questione iraniana potrebbe avvenire molto più chiara. C'è una cosa in Medio Oriente che si chiama la mezzaluna fertele. Geograficamente la mezzaluna fertele comprende parte dell'Ira che finisce la Mecca. Se tu fai il giro, in quella maniera... È una mezzaluna. Mezzaluna. Ed è realtà... Io non sono religioso, ma seguendo i racconti religiosi trovo il passaggio di Abramo. Secondo tutte le religioni monoteisti parlano di Abramo che parte da Ur in Iraq, arriva fino al nord dell'Iraq e poi va verso ovest, quindi attraversa il nord della Siria, sud della Turchia attuale. E quindi arriva Aleppo, Aleppo è una denominazione che fu venuta fuori per la residenza di Abramo lì, e poi Gerusalemme, Gerusalemme al Cairo e al Cairo alla Mecca. Se segui questa cosa, vedi che effettivamente è una mezzaluna. Perché le chiamano fertele? Perché nel passato non era una zona desertica come oggi. C'erano acque e c'erano soprattutto savane, boschi, eccetera. Tant'è che dalla città di Latakia, che si affaccia il Medio Trento, una città siriana, fino a Bagdad c'era una strada, quella fondamentale, diciamo l'autostrada Roma-Nabba, come si chiama, Napoli-Milano. L'autostrada. Le chiamavano la strada dove tu non vedi mai il sole, perché tanto erano i boschi, la vegetazione che è così. E oggi trovi delle città costruite per noi nel deserto, ma allora evidentemente non erano così. Questo aspetto religioso, loro dal racconto religioso uscita, io dico quello che leggo, non è mia invenzione, dai libri che non sono recentissimi, e che il sceismo dovrebbe arrivare alla Mecca, distruggere la Mecca e arrivare alla città santa che si trova in Iraq. Quindi questo progetto della Mezzaluna ne parlano moltissimo. Se noi associamo, adesso ci sarà fantescenza probabilmente in questo, vero o falso, non sono in grado di dirlo, ma lo racconto come l'ho letto o come l'ho discusso con qualcuno di quelli storici, insieme alla questione invece storica e imperiale, qualcosa di verità c'è. Quindi l'arrivare fino al Mediterraneo, oggi sono arrivati, perché attraverso Hezbollah ci sono loro lì. Hezbollah è una fazione... Assolutamente finanziata e retta tutta dalla questione iraniana, ci sono istruttori, ci sono persone, non solo... Comprendete che queste dinamiche di solito noi non le apprendiamo dai canali di informazione tradizionali, quindi queste dinamiche interne che magari noi conosciamo per l'Europa, perché noi sappiamo la storia dell'Europa, sappiamo quali sono state le influenze di Napoleone rispetto a quello che può essere l'approccio degli spagnoli, oppure della regina Elisabetta d'Inghilterra e compagnia cantante, della regina Vittorio eccetera. Sappiamo le dinamiche dell'Occidente, non sappiamo le dinamiche uguali che esistono in altri punti del mondo, quindi Feisal ci sta raccontando di queste dinamiche in quella zona, quindi noi apprendiamo delle cose che di solito non conosciamo se non ce le andiamo a studiare all'università o se non ce le andiamo a studiare da qualche parte. Insomma, no? Prego, scusami Feisal, scusami per l'intervizio. No, ma questo spiegherebbe perché questo interessamento di l'Eran così accanito. Allora, in questa occasione io vorrei dirti che la mia preoccupazione non è il fatto che l'Eran si interessa dalla Siria, lo posso capire quando parliamo di possibili genomini, di questi tre paesi che abbiamo aggiornato, Iran, Turchia e Israele. Fin qua si può accettare, almeno in teoria, che giustamente ci sono due paesi che cercano di allargarsi eccetera, finché si può fare pacificamente, probabilmente possiamo dire che benvenga, ma la situazione non è così perché porta con sé di problemi nuovi che hanno radice antica, quindi guerre all'infinito. Ma quello che mi preoccupa per l'oggi è l'arrivare a un compromesso di questo genere. Voi, questo compromesso si fa con l'occidentale, voi lasciatemi, cioè noi lasciamo l'atomica e voi ci lasciate la Siria. Guardate che questa cosa esiste, è sul tavolo di quelli che discutono. Di chi tratta, al di là di quella che è l'immagine che noi abbiamo, quello che noi non vediamo, quello che non sappiamo. Sono quei poteri, di questa cosa si parla. Noi lasciamo la questione atomica, quindi ci fa piacere probabilmente lasciarla. Però lasciateci la Siria, che ci affacciamo al Mediterraneo, a quel punto non c'è più necessità di avere atomiche per diventare grandi. In fondo io ho l'Iran, l'Iraq e la Siria e il Libano. Se hai difesa, faccio un ragionamento occidentale, questo però è un po' un calarsi le braga di fronte al Mediterraneo, diciamo. Beh, mi devi spiegare che cosa vuol dire la posizione oggi. Oggi io vorrei immaginare un paese arabo qualsiasi che si impegnasse a fare una bomba atomica. Quale sarebbe l'atteggiamento del mondo intorno? Degli occidentali o comunque del mondo intorno. Io faccio questa domanda, non la posso immaginare, non do risposta. La lasciamo... Perché non ce l'ho. Però nell'immaginario, vedete un paese, l'Egitto, un paese grande, storico, eccetera, le lasciano fare la bomba? Non lo lasciano.